amici di football is my life guru fans è tutto calcio ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi video sui pronostici delle partite della fine settimana un weekend veramente ricco perché ci sono partite interessanti in inghilterra c'è manchester city celsi in qua in serie a c'è juve atalanta ieri si è giocata napoli inter che ha vinto il napoli 3 a 0 che ha giocato anche un'ottima partita domani c'è il derby lazio roma poi in spagna oggi pomeriggio c'è il classico barcellona real madrid quindi un weekend con veramente tanta tanta carne al fuoco iniziamo subito con i pronostici delle partite tottenham sbonsi allora il tottenham sta facendo un discreto campionato di premier league è quinto in classifica è uscito dalla champions però settimana scorsa contro il celsi ha fatto una buona partita mettendo in difficoltà i blues lo sbonsi invece sta andando piuttosto male è penultimo in classifica rischia veramente tanto è sul barbecue e per questa partita vedo nettamente favorito il tottenham sia per il fattore campo sia perché ha un tasso tecnico superiore rispetto allo sbonsi quindi tottenham sbonsi 1 poi barcellona real madrid è il classico la partita più bella non solo di spagna ma di tutta europa perché è una partita molto sentita che ci regala spesso diversi gol e diverse emozioni io vedo favorito il barcellona perché giochi in casa e poi il real madrid ha anche delle assenze abbastanza importanti come quella di bayle inoltre poi il barcellona ha un assoluto bisogno di punti per cercare di ridurre la distanza dalle merengues per questa partita io invece scelgo di puntare su un gol più over due mezzo perché secondo me segneranno entrambe le squadre e vedremo anche un discreto numero di gol però vedo comunque favorito il barcellona per questa gara poi juve atalanta juve atalanta è un po a sorpresa un big match di questa sedicesima giornata di serie a la juve è prima in classifica ha perso l'ultima partita per 3 a 1 sul campo del genoa l'atalanta invece la squadra rivelazione di questo inizio di stagione ha fatto nove risultati utili consecutivi di cui otto vittorie e un solo pareggio prima o poi questa striscia dovrà fermarsi e penso che si fermerà allo juventus stadium contro la juve perché la juve raramente perde due partite consecutive o meglio non ne vince due di fila e dopo che la juve ha perso in campionato si è sempre ripresa e quindi vedo una vittoria dei bianconeri quindi juve atalanta 1 poi pescara cagliari allora pescara cagliari è una partita interessante il pescara è l'unica squadra che sul campo non ha ancora vinto una partita non gioca malaccio però non ha ancora vinto una partita il cagliari invece sta facendo tutto sommato un buon campionato anche se subisce gol da tutte le parti praticamente la difesa del cagliari è più piena di buchi di un formaggio emmental però a parte questo io per questa partita vedo leggermente favoriti gli abruzzesi però preferisco puntare su un gol entrambe le squadre segnano perché come ho detto prima il cagliari segna ma subisce anche abbastanza poi sampdoria torino sampdoria torino è un'altra partita interessante il toro parte leggermente favorito perché è in un ottimo momento di forma la sampdoria invece ha dalla sua parte il fattore campo marassi non è uno stadio facile per nessuno e qua voglio rischiare punterei su un x un pareggio un pronostico che aumenterebbe anche la nostra quota di vincita poi lazio roma lazio roma derby della capitale che si giocherà domani pomeriggio la lazio è in un buon momento di forma è più in forma della roma viene da molti risultati utili consecutivi la roma invece ha un tasso tecnico superiore io per questa partita punterei su un gol entrambe le squadre segnano perché la difesa della roma è abbastanza fragile e subisce spesso gol ma anche un attacco veramente forte anche se potrebbe sentirsi l'assenza di salà salà che tra l'altro starà fuori tre mesi e mi manda ancora puttane il fantacalcio dopo l'infortunio di milic che mi sta fuori sei mesi politano che non so quando rientra defray che ogni tanto c'è ogni tanto non c'è però a parte questo vabbè andiamo avanti ultima partita fiorentina palermo allora zamparini finalmente ce l'ha fatta ha cacciato dei zerbi dopo l'eliminazione dalla coppa italia contro lo spezia palermo che in campionato viene da sette sconfitte consecutive la fiorentina in casa non riesce proprio a vincere va invece abbastanza bene in trasferta e per i viola il risultato per risalire la china soltanto uno la vittoria quindi per questa vittoria quindi per questa partita vedo un successo della fiorentina perché penso che sia arrivato il momento di tornare a vincere in casa va bene ragazzi questi erano i pronostici della fine settimana richiapitoliamoli tottenham swans 1 barcellona real madrid gol più over 2 mezzo juve atalanta 1 pescara cagliari gol sampdoria torino x lazio roma gol fiorentina palermo 1 fatemi un po sapere quali sono i vostri pronostici delle partite io come al solito mi invito a iscrivervi al canale a iscrivervi alle varie pagine facebook e siti web io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao